La questione delle deiezioni canine è sempre stato un po' un problema annoso, ma credo non solo nella nostra città, ma in tutte le città. Il monitoraggio del territorio affidato anche alla Polizia Municipale è costante. Ovviamente non è possibile coprire in maniera puntuale sempre ogni luogo della città e quindi noi abbiamo voluto dare uno strumento in più insieme a Formula Ambiente ai proprietari dei cani per andare incontro a quello che deve essere ogni giorno di più il decoro urbano. Quindi presso i punti di Formula Ambiente, qui in Piazza Malta dove siamo oggi e in Via Terno sarà possibile ricevere dei sacchetti gratuiti presentando la carta d'identità del cane proprio per favorire la raccolta delle deiezioni canine e in questo abbiamo fatto un lavoro anche di ulteriore redistribuzione dei cestini su tutto il territorio chiaramente concentrandoci sulle zone che sono maggiormente zone di passeggio con i cani proprio per aiutare ogni giorno il decoro urbano. Quindi il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale che ogni giorno è accanto a noi nel monitoraggio del territorio e a Formula Ambiente che in questa cosa ci aiuterà appunto nella distribuzione dei sacchetti nel decoro quotidiano della città.